Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione nata dalla sinergia tra il Consiglio regionale della Toscana e il RTV38. In primo piano di nuovo l'autonomia differenziata. Le proposte di delibera dopo una settimana di rinvio sono arrivate in aula e entrambe hanno ricevuto il via libera. Proposte dal cosiddetto Campolargo, Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle sono state approvate dall'aula del Consiglio regionale della Toscana. Le opposizioni hanno parlato di occasione sprecata, l'autonomia differenziata va anche nell'interesse dei cittadini toscani. Questa è la posizione delle opposizioni. Il via libera apre il percorso verso il referendum abrogativo della cosiddetta legge Calderoli. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le due proposte di deliberazione presentate da Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle per l'indizione del referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Una prevede l'abolizione totale della legge nazionale, mentre l'altra, predisposta nell'eventualità che l'abrogazione totale non fosse ritenuta ammissibile, ne prevede l'abrogazione di un'ampia parte. In entrambi i casi il Consiglio regionale dà mandato al Presidente dell'Assemblea legislativa di comunicare la presente deliberazione ai consigli regionali di tutte le altre regioni, con l'invito all'adozione di un uguale atto affinché si possa dare seguito all'iniziativa referendaria. Noi riteniamo che questa sia una legge pasticcio che non risponde certo all'esigenza di far funzionare meglio i livelli istituzionali del Paese, la nostra Costituzione parla di un regionalismo cooperativo e non competitivo. In questo modo, con questa legge, che fa l'atto non ha stabilito prima i livelli essenziali delle prestazioni, non ha messo a disposizione risorse per riequilibrare le diseguaglianze che rischiano invece di aumentare fra regioni più forti e regioni più deboli. Noi rischiamo di creare in Italia 20 staterelli che sono insignificanti nei confronti di entità come l'Europa della quale facciamo parte. Dall'altro, questa legge che risponde di più alle spinte un po' secessioniste di una forza politica che sta al governo va letta in un combinato disposto con l'altra legge, che è quella sul premiato, che invece risponde all'applicazione delle spinte diriciste di un'altra forza politica di destra che sta al governo. Vale a dire quella di avere un capo dell'esecutivo eletto direttamente dal popolo e difficilmente controllabile sia dal Presidente della Repubblica che dal Parlamento che con quella legge vengono oggettivamente indeboliti. C'è una valenza di natura politica, centro-sinistra è compatto, unito, si allarga, cresce in Toscana, difende le peculiarità della Toscana e la nostra autonomia è quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum è un atto voluto dalla Costituzione, stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi. Quindi è una difesa della nostra peculiarità e nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. È fondamentale in questo momento storico della Repubblica a unire tutte le forze civili e politiche per evitare quello che è uno smembramento dello Stato italiano, perché questa è l'autonomia differenziata e con il combinato disposto del premierato diventa chiaro che non è utile al cittadino medio, toscano come calabrese e come veneto. È utile soltanto a una compagine politica, quella che adesso sta governando il Paese, che desidera avere un controllo assoluto anche dividendo ulteriormente l'Italia. Faccio solo una riflessione che dovrebbe far riflettere tutti i governatori delle regioni, tutti i politici e anche alcuni del centro-destra che già si sono espressi contro. In questi anni, in questi decenni, si è investito molto da parte del Governo centrale per cercare di superare le differenze territoriali. Ancora oggi l'Unione Europea ci chiede uno sforzo ulteriore per superare le disuguaglianze all'interno di un territorio di respiro più ampio che è quello dell'Unione. Questa proposta di legge, che è formulata nel modo più sbagliato possibile, addirittura senza ancora la formulazione dei livelli essenziali di prestazione, non solo in sanità ma anche su altri aspetti, va esattamente nella visione opposta. Respinti invece i due ordini del giorno presentati dal gruppo Fratelli d'Italia che intendevano impegnare il Presidente e l'Esecutivo regionale a proseguire nel percorso di contrattazione con il Governo centrale in merito all'autonomia differenziata, rinunciando alla presentazione della richiesta di referendum abrogativo. Sarebbe utile perché la Toscana ha sicuramente un'esperienza in materia di gestione dell'ambiente, dell'energia, in parte anche dal punto di vista dell'urbanistica piuttosto che della sanità e questa riforma aumenta i livelli di autonomia e quindi di gestione dei servizi più vicini ai cittadini e quindi con maggiore capacità di controllo sia da parte dei toscani sia da parte delle imprese. Un dibattito in aula direi quasi interamente fatto dai consiglieri di opposizione, un centro-sinistra che non capiamo se non ha letto la legge e quindi non ha sostanza su quelle due PDD che ci porta oggi all'attenzione dell'aula o seppure ha timore che il Presidente Gianni possa tenere a sé una serie di materie come per esempio la geotermia, abbiamo visto come sta gestendo l'eventuale rinnovo delle concessioni o comunque la cultura, il tema dell'istruzione e del turismo. Quindi un silenzio quasi assordante, interamente composto dai consiglieri di maggioranza in aula oggi. Noi ribadiamo invece il pieno sostegno alla legge Calderoli, il pieno sostegno al governo, il pieno sostegno alla legge sull'autonomia differenziata che crediamo essere un valore aggiunto che la Toscana potrà avere su alcune materie importanti. Io penso al tema della geotermia, penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. L'autonomia differenziata è nell'interesse dei cittadini toscani e qualora ci eleggeranno alla guida di queste ragioni noi sicuramente chiederemo per tante materie l'autonomia differenziata. Ma lo faremo anche quando, siamo sicuri, il Presidente Gianni farà ancora un ulteriore giravolta, prima era a favore dell'autonomia differenziata, poi è arrivata la SLA e c'è stato questo cambio di posizione, chiaramente imposto con la nuova dirigenza del PD e sicuramente il Presidente di questa Regione non potrà fare a meno che andare a chiedere l'autonomia differenziata su alcune maniere e noi saremo al suo fianco e vorremmo e pretenderemo che anche il Consiglio regionale si possa esprimere nel merito e non come fa il PD e questa sinistra ormai così allargata nella ideologia e nella gestione del potere. Spazio anche alla cultura in Consiglio regionale è stata presentata l'edizione 2024 del Pinocchio Street Fest tre giorni di appuntamenti culturali in programma a Collodi nel mese di agosto. è stata presentata al Media Center Sassoli al Palazzo del Pegaso l'edizione 2024 di Senza Fili Pinocchio Street Festival in programma dal 23 al 25 agosto a Collodi ciascuna delle tre serate a ingresso libero avrà luogo nel magico scenario dell'antico borgo di Collodi Castello così come al Parco di Pinocchio e al Giardino Storico di Villa Garzoni. Questo festival ha veramente impreziosito l'estate sul territorio della Valdignevole perché ha una particolarità innanzitutto avere artisti di straordinaria qualità che vengono a Collodi per spettacoli tra l'altro tutti gratuiti per le persone grazie al straordinario lavoro che fanno gli organizzatori alla disponibilità della Fondazione Collodi, del Comune di Pescia e di tutti gli altri enti che supportano le spese di realizzazione e soprattutto ha una location straordinaria perché vedere questi spettacoli nello splendido borgo di Collodi Castello o nella straordinaria Villa Garzoni dà sicuramente a questi luoghi ma devo dire anche agli spettacoli stessi un fascino, una magia tutta particolare La fondazione quest'anno ha raggiunto quasi 280 progetti che sono nel mondo pensate un po', quindi è Pinocchio che si muove io dico spesso che in questi ultimi 30 anni abbiamo fatto tanto per Pinocchio per farlo conoscere ma quando dove siamo arrivati c'era già arrivato con le sue gambe Tra teatro, musica e circo, Senza Fili 2024 ospiterà circa 50 spettacoli presentati da compagnie provenienti oltre che dal panorama nazionale da Argentina, Belgio, Brasile, Francia e Spagna Beh, intanto lo conoscono ormai molti perché siamo alla nona edizione è un festival che ha fatto proprio della unione dei linguaggi della sua cifra stilistica per cui il nostro è un viaggio alle radici dello spettacolo popolare magari qualcuno può definirci come un festival eclettico perché mettiamo insieme appunto dalla musica lirica al teatro di strada però secondo noi ci sono molte connessioni tra le proposte culturali che ogni anno facciamo Infine lo sport, una città della nostra regione che si sta caratterizzando per la passione per il basket è senz'altro Livorno questo 2024 ha visto per la città della Toscana la promozione storica della Libertas in A2 una promozione che è stata celebrata anche dal Consiglio regionale della Toscana La Libertas Livorno 1947 è tornata dopo 33 anni nella Serie A della Palacanestro conquistando una storica promozione in A2 e per festeggiarla l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso all'unanimità di consegnare alla squadra una coppa Questo è un riconoscimento importante, dopo 33 anni la Libertas Livorno torna in A2 è un riconoscimento per la società, è un riconoscimento per gli atleti che hanno fatto un campionato stupendo è un riconoscimento per il pubblico che ha sempre gremito il palazzetto dello sport non ci sarà più il derby ma Livorno, la Libertas rappresenterà davvero ai massimi livelli tutto il nostro territorio e questo è un riconoscimento che insieme al Presidente Gazzetti abbiamo voluto dare per dire grazie a chi ha scommesso investendoci su questa società e agli atleti che hanno fatto un campionato stupendo Vista l'artezza anche lei è appassionato di basket? Sì, sono appassionato di basket ma non sono stato mai un grande giocatore di basket però apprezzo, ammiro molto chi riesce ad emergere in questo sport è uno sport che tiene insieme tante attività fisiche quindi davvero complimenti, ci avrei voluto provare ma insomma meglio quello che sto facendo ora Una richiesta che tra l'altro è stata accolta unanimamente dall'Ufficio di Presidenza e voglio ringraziare ovviamente tutte le componenti e tutti i componenti in primis il Presidente Mazzeo mi è sembrato e ci è sembrato dunque assolutamente doveroso questo riconoscimento anche perché sicuramente la Libertas ha tenuto molto alto il nome non solo di Livorno ma della Toscana tutta A ritirare la Coppa visibilmente emozionato è stato proprio il Presidente della Libertas Livorno 1947 Roberto Consigli che ha ringraziato a nome di tutta la società e dei tifosi livornesi il Consiglio regionale Questo importantissimo riconoscimento che dà un valore ancora più importante a questa vittoria noi l'abbiamo detto tante volte, questa è una vittoria della gente la gente che ha voluto far rinascere il basket a Livorno la gente che si è messa insieme per ricostituire la Libertas Livorno dopo i fasti degli anni Ottanta e poi con l'aiuto di tutti siamo riusciti a riportarla in Serie A adesso questo è un patrimonio molto importante per noi e per tutti i ragazzi le ragazze, le famiglie che seguono questa squadra che l'hanno seguita con grande entusiasmo e noi vogliamo continuare ad andare avanti in questo senso anche in Serie A e si chiude qui anche questo appuntamento con la voce del Consiglio prima di salutarvi vi ricordo che è possibile seguire l'attività del Consiglio regionale della Toscana anche sul sito del Consiglio e sulle pagine social quindi non resta che dirvi grazie dell'attenzione e buon proseguimento in nostra compagnia Grazie a tutti